Sì, 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 sto attraversando un buon momento di forma, infatti sono molto contento per me e soprattutto per questa vittoria che è arrivata in questo momento un po' buio della stagione in cui arriviamo da una sconfitta in campionato e un altro pareggio con il top 5 in cui il gioco ha latitato e anche fisicamente non stiamo benissimo. È arrivata questa vittoria soffrendo di nuovo, anche se il risultato 4-1 è sicuramente bugiardo, abbiamo giocato benissimo nel primo tempo, abbiamo fatto tre azioni e abbiamo capitalizzato al massimo, due gol e no, c'è da essere molto soddisfatti e ottimisti anche perché sabato sarà un'altra battaglia di nuovo contro di loro. No, siamo soddisfatti. Ecco, come ricordavi tu prima, un MF che ha avuto un inizio di stagione un po' difficile, inizio di stagione difficile dovuto soprattutto ai tanti infortuni che avete patito in questa prima parte di stagione. Anche oggi avete giocato praticamente in sei, quanto potrà influire questo sulla vostra stagione? Non lo so, questo lo vedremo alla fine, adesso sinceramente sono davvero tanti gli infortunati e vedremo, vedremo di recuperare il più possibile. Adesso, anche oggi, alla fine abbiamo giocato gli stessi di sabato scorso, quindi con il top 5 abbiamo pareggiato e oggi abbiamo fatto una gran prestazione, mentre sabato eravamo quasi fermi, comunque la condizione anche lì, quando si gioca sempre ai stessi sei, è sempre molto, diciamo, non è delle migliori, quindi no, per questo aspettiamo di recuperare i vari forcella, i patti di Matteo, Zucco e tutti gli altri che sono lì in infermeria, diciamo. Luca Sfienti, giocatore del CRD. Luca, oggi una partita un po' strana, nel primo tempo il CRD quasi assente dal campo, poi la reazione è arrivata troppo tardi. Sul tra uno l'occasione per riaprire la partita con quel rigore e poi purtroppo il forcing finale non ha portato risultati sperati. Sì, il primo tempo noi eravamo fuori dalla partita, mancanze nostre, bravura loro e se con lo tempo 30 minuti riprendere 3 gol contro di loro non è semplice, sono stati bravi. Ecco, spiace uscire dalla Coppa, comunque un buon MF quest'oggi, nonostante i soli 5 effettivi, un CRD che esce a testa alta, soprattutto per quanto ho fatto vedere nel secondo tempo, da qui deve ripartire la squadra anche per far vedere qualcosa di buono in campionato? La partita dura 60 minuti, non basta giocarne 30 contro squadre forti. Il fatto che a loro mancasse qualcuno a me preoccupava perché chi ha giocato di loro ha dato più di quello che doveva dare e niente, ne abbiamo corso a vuoto.